ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi ho preparato per voi una nail art estiva per realizzare questo design ho usato la marca fox i colori di fox sono molto pigmentati e coprenti adesso vi mostro in realtà la texture sotto nella descrizione vi lascio il link dei prodotti e un codice sconto per primo ho deciso di mostrarvi come ho creato il sfondo di me design con un pennello de crede prendo un pochino di prodotto in punta del pennello stendo la base solo su qualche punto e asciugo in lampada per 30 secondi userò il foil argento per dare un po di luce al mio sfondo uso il gel paint bianco della marca global senza dispersione per disegnare il rametto il gel paint di questa marca sono validi per disegnare in qualsiasi tecnica e con una matita mi disegno la schema dell'arancia copriamo il spazio dell'arancia con il bianco ho mescolato il giallo con l'arancio per creare un colore più chiaro che sarà il centro della nostra arancia col colore arancione mi individuo sei parti dell'arancia aggiungo un po' di colore arancione dopo quale con la base sfumo il colore con il colore 580 aggiungo il contorno dell'arancia userò lo stesso colore per scurire l'arancia con l'arancia con l'arancia con l'arancia dopo aver steso il colore ai lati prendo la base gel e sfumo il colore e sfumo il colore ai lati Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per tocarsi il nostro design aggiungo dei dettagli con il fente bianco senza dispersione. Grazie a tutti. Un po' il topo pot per raggiungere delle cucce. Consiglio a tutti di asciugare ogni 2-3 cuccine e lampada. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.